Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video di Remix drop ragazzi oggi abbiamo un nuovo video il gioco di amo ok di esca scusate che mi sembra che mi sarebbe pagato il gioco mi prendiamo la faccetta ragazzi questo è il primo video del canale di esca visto ai ragazzi ho tantissimi cosi però le cancello tutte dai perchè sennò poi allora i psiloni dov'è ora ragazzi allora cominciamo con una nuova serie nella centralina vediamo se la trovo perchè un pochetto suone eccola fort ben apporto ragazzi ci chiameremo youngback è il mio nome guardate guardi qui è una pigione non easy vedete che ha su un pochetto il volume ok non lo sentirete giustamente però vabbè ragazzi questo gioco è basato su se non avete ancora capito sull'escape cioè uscire sarebbe sarebbe madonna quanti mattelli tutti vabbè tutti fortissimi all'inizio si vabbè ma qui ci stanno da due anni nella prigione online quindi ragazzi ragazzi giocando con altre persone io voglio aiutare tanto per tanto per spazio non rompete io lo sto screcciando oh madonna c'è 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 una fortuna tremenda guarda guarda che possiamo farci WOTA PUTTI WOTA PUTTI mi serve un cavolo di accendino voi non mi vedete voi non mi vedete non mi minare non mi minare non mi minare la fanno scusate che non posso proprio permettermi di ecco avete capito già quindi ragazzi quello non ho mai 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 provato in vita mia sto dicendo diciamo che mi sto un po' nitricando eh diciamo la verità vado poliziotto subito ragazzi io mi sto un po' nitricando perchè davvero non è è facile questa prigione allora poi questo ce lo deniamo e anche un'altra cosa tanto per tanto le swag questo poi tot e brush ce lo deniamo per farla molto presto ragazzi qui ha tutte cose che eh so io per mio per mio scopo per mio scopo ok devo prendere one two e basta devo correre ok no m'hanno visto cavolo ah questa qua la prendevano subito madonna non lo sapevo che prendevano subito ah che ci sono le telecamere me l'hanno vista bene allora facciamo così se non mi muove eh non mi muove il giocatore perché no scusami scusatemi faccio così reggivito scusate però non funzionava quindi facciamo un'altra prigione dimmi ok facciamo peris central bedigold vabbè dai scusa buona cara allora raga eh ragazzi è vero da quanti spazio c'è le cellule non sono occupate si è strana vero lo so che è strana però vabbè le cellule questa è un ecco i piedi vedi non c'è niente a parole cioè non è occupata questo per dire però ci si trovano sempre qualcosa che ci mettono le guardie oh mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma subito un rotolo di scotch madonna manco questo me lo tengo perchè poi se infatti mi pigliano la roll call sto andando sto andando la roll call mette grey ok no qua ti vedo subito ragazzi è un molto difficolti una difficoltà enorme intanto facciamo subito la voto putty come ho messo nella prossima iscrizione vabbè ragazzi voto putty andiamo in my desk andiamo tutta questa roba bam 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 e andiamo perchè ragazzi oggi tenteremo ok madonna adesso guarda se mi vede ok eeeh ripetico beh ragazzi ok non mi ha visto nessuno sono peggio di tuta link metto un nome vabbè ragazzi oggi faremo un po' il trailer di una serie penso si una serie si faremo tutte le persone ma faremo in più episodio ragazzi perchè ci vuole un botto ci vuole un botto raga ci vuole tantissimo per farlo no 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 voi non non sarete non sarete voi spararmi ver non sarete ver non rompete ricoglio voi le vostre mamme mamma c'è l'altro genitor e cavolo dai alzami subito devo andare a fare il mio lavoro di genitor e vabbè io salto sono stronzo e quindi lo lascio ok qua c'è l'andeggio andato sto andando al lavoro sto andando al lavoro stavo controllando mica sono superman si madonna buona manco se fossi superman faccio così eh no madonna quanto fa devo correre nel mio desk my desk uccidimi vai ragazzi adesso sto tentando di prendere più roba dalle celle almeno nel prossimo episodio io crafteremo ragazzi sto craftando un po' di robe a cavolo perché i ragazzi sono troppi guardi non ci riesco a tenerle perché sono abituato con le prigioni abbastanza facili clem diciamo vabbè non mi sono ancora presentato scusate sono appunto remix drop ho scelto questo nome perché lo posso dire qui mi piace suonare mix o i drop quindi ho fatto questo nome un po' mix e appunto l'ho fatto anche prima però questo diciamo sto andando al lavoro sto andando al lavoro sto andando al lavoro vai questo è un po' che mi sono già esplorato e questo perché ragazzi forse non riuscirò a fare un video ogni 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 giorno ma semplicemente perché perché ho alla scuola e tutte le altre cose da pensare ok logan vai dobbiamo rubare da logan no non mi vedi no non dimmi no 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 non picchiarmi non picchiarmi non picchiarmi io ti scorcio non picchiarmi non picchiarmi non picchiarmi picchiami picchiami scappi aaaaaaa ok questo io non voglio prendere lavori perché ragazzi devo avere un po' di tempo libero nella mia privacy diciamo Vabbè ragazzi Questa è una versione molto difficile Se non mi vedete siete strani Ma si può fare Diciamo Sto facendo un po' di esercizi Tanto per allenarmi Non me lo ho più Questo ritmo Almeno questo mi da la velocità Adesso faccio la strength Che un pochetto ci vorrà Ecco Adesso faccio così Guardate ragazzi La faccio così Vado all'Atlant Però sono un po' A Regal Perché Qua c'è quello del lavoro Allora se c'era quello del lavoro Allora là potevo fare tutto Ma se no no Purtroppo Isaac e Logan Ok ciao fuori Quelli del lavoro Quelli del lavoro Bello Sto muretto A me piace molto Allora io sono visto che sono un po' Figlia Farò forse due puntate Sì dai Sì dai Non oggi è Però Fripeered Quindi va bene Allora devo prendere Madonna che musica Brutta Voglio prendere una scatola Perché ragazzi Perché di solito Dico di solito Qua Qua Correte Perché io ci gioco da tanti Dei schifisti Però giustamente Non è che posso essere Il mago del maghe Questo non mi deve cipare il muro Io cipo per i fatti miei Così tanto Guardano quanto ci vorrà Però ragazzi Intanto proventiamo questo Momentuccio Oh no Riccardo 10 minuti da fare la doccia Ok ragazzi Quindi da 10 minuti Andrò a fare la doccia Grazie No 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 Ho spiegato una bella Ok ragazzi No Belli Quanti sono belli Bello questo muro Aspetta Vai Perché ragazzi Forse non lo saprete Ma io cercherò In 4 o 5 episodi Perché ragazzi Se vuoi scuole tanto Di uscire dalla prigione Forse io lo derò Cioè Prima di te Metterò il salvataggio Prima di altro E vado al living meal Sì Subito A parte dopo Se essere salito Buongiorno 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 Se volete C'è il janitor Vacanzi Landry Porca Quanto mi serve In intelligenza No 30 Vaffa All'innovo Fa quel Mmm 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 Se ho il janitor Questo qua Ovviamente potevo Lavarmi i vestiti Ma Più cato potevo Fammi la tutta Da cosa Illegalmente Ma no Non voglio Perché non voglio uscire Così Da semplice Ragazzi No Vado 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 Manco Non l'hanno fatti Chiuso Adesso guarda Stanno Maggiormente L'exercice Se no Se non mi vedono Beh Sospetteranno Quindi devo muovermi Se mi sbuga il tetto Io sono sfortunatissimo Ok One Two Three Go Allora Questo Ok Ventilazione Questa come si scava Come si rompe Allora Ho capito Adesso Allora Sto andando Sto andando Ragazzi No Fallo E mi hanno visto Giustamente col muro Vabbè ragazzi Penso di concludere Quel video Perché Giustamente Non abbiamo potuto fare Così niente Mi sa che io Guitto Ragazzi Voglio fare un'altra prigione E sarà questa Very easy Però vabbè Allora ragazzi Penso Perché guardate Se mi fa download E non posso continuare Quindi ragazzi Devo andare Bonus content E troviamo soltanto Queste prigioni No Vediamo Non ce l'ho più Quindi io vorrei fare Vorrei Vorrei Fare questa qua Di Natale Ma non posso Altra traccia È troppo difficile Escape Team Qui è figo Io vorrei Comprare anche Ma non posso Ragazzi Scusatemi È partito Chrome Sì ragazzi Sto registrando Con Mac Vabbè Penso che Visto che mi è bugato Anche il gioco Vediamo un attimo Vediamo che Mettiamo una schiamata Di escapist Ok Ragazzi Penso di concludere Quel video Perché ragazzi Non ho fatto Niente Perché quella È una presentazione Quindi ragazzi Potete capire No Quindi Spero che il video Si è venuto Di 5 like Per il prossimo Sono pochi Ma non mi piacciono Quindi Bella ragazzi Il prossimo sarà Di Agario Se non mi sbaglio O di Crash Royale Mi sembra Si è di Crash Royale Quindi Bella ragazzi Ci vediamo al prossimo Quindi Ciao